Ciao cari follower, benvenuti sul mio canale. Sono di nuovo qui con un post emozionante di Enjin Akiurek e Thugbabuyukustun. Come sapete, Enjin Akiurek e Thugbabuyukustun hanno firmato un nuovo progetto e hanno condiviso la loro eccitazione con i loro fan. Il fatto che Enjin Akiurek e Thugbabuyukustun fossero i protagonisti ha aumentato ulteriormente l'interesse per il progetto. Bene, condivideremo con voi l'argomento del progetto e come i fan valuteranno gli sviluppi del progetto. Ma prima di passare al mio video, non dimenticate di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace e di condividere il mio video. La meravigliosa serie, con protagonisti interessante Firefette e Thugbabuyukustun, mi ha emozionato. La collaborazione di Enjin Akiurek e Thugbabuyukustun al progetto è stata la prima a suscitare scalpore sui social media. Mentre i fan esprimono il loro entusiasmo per il progetto con il commento, la coppia più bella sta arrivando, non vedono l'ora di soddisfare il loro desiderio per la popolare esibizione della coppia. Gli esperti del mondo delle riviste credono e affermano che questo progetto, che ha riunito Enjin Akiurek e Thugbabuyukustun, è uno dei lavori più grandi e chiacchierati dell'anno. Sembra che le capacità recitative del duo e l'idea del progetto occuperanno il programma della rivista per molto tempo. La nuova serie di Ansin Kuru e Thugbabuyukustun ha già creato grandi aspettative con la firma. Gli spettatori attendono con impazienza questa forte collaborazione del duo e i dettagli della serie. Con l'inizio della produzione, il pubblico della serie si prepara a seguire il progetto con grande entusiasmo. Cari follower che avete un'opinione su questo argomento, potete condividere con noi i vostri pensieri nella sezione commenti. La nuova entusiasmante serie incontrerà molto presto i suoi fan in televisione. Come si è riflesso sulle telecamere l'entusiasmo per la nuova serie di Enjin Akiurek e Thugbabuyukustun? Drinkable ha dichiarato di essere molto entusiasta del loro nuovo progetto.